Ciao a tutti amiche e benvenuto in un nuovo video. Oggi video unboxing Temu. Infatti mi è arrivato questo pacco e tra un po' andiamo a vedere che cosa contiene. Temu è uno shopping online ma c'è anche l'app che potete scaricare sul cellulare. Inoltre nel sito troverete veramente qualsiasi tipologia di prodotto a dei prezzi molto competitivi. Troverete anche tantissimi prodotti dedicati al fai da te e anche dedicati al nostro mondo, quello dell'uncinetto. Inoltre Temu offre anche la spedizione gratuita e il reso gratuito entro 90 giorni e accetta anche qualsiasi tipologia di pagamento. Io vi lascio qui sullo schermo il codice sconto e inoltre giù in descrizione vi lascio anche il link diretto a un coupon di ben 100 euro. Adesso quindi vediamo quali prodotti ho scelto. Inoltre giù in descrizione vi lascio comunque tutti i link diretti. Come vedete ho messo tutti i prodotti sul tavolo, non entrano tutti nell'inquadratura perché sono veramente tanti ma vi voglio anche far notare che comunque i prodotti arrivano imbustati singolarmente quindi sono protetti veramente molto bene e questo veramente è molto importante. Quindi sono tutti imbustati per bene. Adesso quindi ve li mostro tutti uno per uno. Partiamo dai filati. Io ho scelto questo filato che è composto dal 60% cotone, 30% acrilico e 10% lana. Qui abbiamo un gomitolo di 100 grammi per 245 metri quindi l'ha rese veramente molto alta. Questo è il codice colore. Qui si consiglia l'uso dei ferri del 2,5 e dell'uncinetto del numero 4. Il filato al tatto è veramente molto ma molto morbido. Vi faccio vedere il filo. Come vedete questo è il filo è molto particolare ed è morbidissimo al tatto. Qui abbiamo come vedete le tonalità del celeste, l'azzurrino, il panna e poi abbiamo il giallino. Io ho preso quattro gomitoli poi vediamo che cosa realizzerò con questo filato che è veramente molto ma molto morbido e molto particolare. particolare. Poi ho preso questo filato veramente molto particolare. Vi dico subito la composizione. Qui abbiamo un 70% di lana, un 15% di mohair e 15% di acrilico e ogni gomitolo è di 50 grammi. Come vedete qui abbiamo queste bellissime tonalità molto belle, molto calde. Abbiamo l'arancio, c'è questo leggero rosa salmone, il marroncino, il beige, dei colori veramente molto belli e particolari e vi faccio vedere anche com'è il filato. Il filato è leggermente pelosetto. Questo è il filato. È un filato veramente al tatto molto ma molto morbido e inoltre mi piaceva molto questo colore molto particolare che ha come vedete queste tonalità veramente molto belle. Poi vediamo anche che cosa realizzare con questo filato. come vedete ho preso anche questo cordino per borse. Qui abbiamo un cordino che è 100% poliestere ed è di 3 mm per un peso di circa 250 grammi. Io ho scelto questo che è un marroncino veramente molto bello abbastanza chiaro. Facciamo anche insieme una prova. Io lo provo con l'uncinetto del 5. Quindi vado a lavorare una catenella. Naturalmente voi potete utilizzare anche l'uncinetto del 5 e mezzo. dovete comunque fare delle prove. Comunque devo dire che è un cordino che si lavora veramente molto bene. E anche il colore è molto bello come vedete. Quindi questo è il cordino molto bello molto particolare e il colore è veramente molto bello e molto lucido. Ho preso anche questi fondi per borse in ecopelle che hanno questa forma ovale. Questo è panna ed è rifinito veramente molto bene. Come vedete i fori sono abbastanza grandi e poi qui sul retro ci sono anche questi piedini in oro. Sono veramente molto belli e particolari. Ho preso anche questo in oro che ha i piedini sempre come vedete in oro. Ora vi dico anche la misura. Questi misurano 14 centimetri e mezzo di larghezza per un'altezza di 11 centimetri. Ancora ho preso anche altri fondi per borse. Ci sono questi che sono un po' più allungati. Questo è in oro e ha sempre i piedini in oro. Come vedete è rifinito veramente molto bene da entrambe le parti e ha questi piedini in oro. Poi ho preso anche questo nero. Vi dico anche la misura di questi. Qua abbiamo una larghezza di circa 18 centimetri. Quindi ho 18 centimetri di larghezza per un'altezza di 5 centimetri e mezzo. Anche questi sono molto particolari per realizzare dei progetti borsa. Quindi questi comunque sono i fondi molto molto belli e particolari. Come vedete ho preso anche altri prodotti per le borse. Ho preso due di queste molle che si aprono in questo modo e possono essere utili quando vogliamo realizzare la borsa dal basso e poi andiamo ad inserire in alto questa molla che può essere anche rivestita. Vi dico anche quanto misura questa. Questa è di 20 centimetri e ne ho prese due. Poi ho preso anche questo che serve sempre per essere applicato ad una borsa. Quindi abbiamo questo piccolo manico per borsa. Io l'ho scelto in bianco ed è veramente molto pratico soprattutto per le pochette. Poi ho preso anche come vedete queste che sono delle chiusure per borse. All'interno della confezione ce ne sono tre e si inseriscono tramite queste alette e poi c'è anche come vedete questa parte in metallo che va proprio a fermare le alette. Queste sono come vedete in oro. Poi ho preso anche due manici in legno. Vi dico anche quanto misurano. Questi misurano 12 centimetri. Quindi ho preso la coppia naturalmente e poi ho preso anche un manico di questi in oro che serve sempre ed è molto particolare per realizzare delle borse molto eleganti. Questo è abbastanza lungo infatti è un metro e venti e come vedete ha questa parte che è molto pratica e serve proprio per applicarla alla borsa tramite appunto queste due aperture. Ho preso anche dei bottoni magnetici. Questi sono da 15 mm e la confezione è formata da otto pezzi. Come vedete sono di vari colori. Poi ho preso anche queste etichette e la confezione è formata da 30 pezzi totali e ci sono tre colori. In questo caso c'è il bianco, poi abbiamo questo che è un cuoio e il nero. Ve le faccio vedere. Quindi abbiamo dieci pezzi per colore. Questa è in bianco, poi abbiamo questa in cuoio e poi ci sono anche queste in nero. Sono veramente molto pratiche e si possono applicare tramite i forellini. Quindi qua ci sono dei forellini. Naturalmente si deve togliere proprio questa parte. Abbiamo i forellini per poterle applicare sulle borse. Poi ho preso anche questi bottoni. Sono un totale di 100 bottoni decorativi e questi sono di 15 mm. Sono veramente molto belli e servono proprio per decorare le borse, le pochette e anche tantissimi altri lavori. Ancora poi ho preso anche queste chiusure che sono fatte in ecopelle e sono perfette per le borse. Come vedete sono formate da queste due parti. Vengono cuscite tramite questi forellini e poi naturalmente c'è anche questo bottone che serve proprio per chiudere in questo modo la borsa, la pochette. In questo caso queste chiusure sono un totale di 8. Quindi la confezione è di 8 e sono di vari colori. Questa ad esempio è il cuoio, poi c'è questa chiusura che è in bianco, anche questa molto bella. Questa ad esempio è rosa e poi ci sono anche queste in nero. Poi abbiamo questa che è un color panna e il totale di queste chiusure nella confezione è di 8 e ci sono vari colori. poi ho preso anche queste mollette che vengono utilizzate soprattutto nel cuscito creativo ma possono essere utili anche in alcuni lavori ad uncinetto. Questa è la confezione da 10. Ho preso anche questi che sono degli occhietti di sicurezza che servono per realizzare proprio gli occhi degli amigurumi. Come vedete ci sono delle misure diverse da quella più grande a quella più piccola. Poi c'è questa parte che viene proprio messa dove si trova questa vite quindi qua abbiamo l'occhietto poi c'è questa vite che va fissata tramite queste parti. Anche questi sono molto interessanti inoltre hanno anche questa scatolina e ci sono proprio tante dimensioni diverse per realizzare dagli amigurumi più piccoli fino ad arrivare a quelli più grandi. In questo unboxing non potevano mancare gli uncinetti e ho scelto questi in alluminio. Questa è una confezione che va dall'uncinetto numero 2 fino a quello numero 10 e sono un totale di 14 pezzi. Devo dire che io utilizzo questi uncinetti veramente da tantissimo tempo e mi sono trovata sempre molto bene anche perché sono molto pratici, leggeri e possiamo utilizzarli sia per i filati più sottili perché ci sono veramente tanti numeri, fino ad arrivare anche a dei filati più spessi. Questo ad esempio è quello del 6 e mezzo. Come vedete è molto bello, molto pratico. Ci sono questi uncinetti che sono veramente anche di tanti colori diversi. Questo ad esempio è il numero 10. Io questi ve li consiglio veramente tantissimo anche perché li utilizzo da sempre. Poi ho preso anche questa confezione di uncinetti, è tutta in rosa, si apre con questa cerniera e all'interno abbiamo questi uncinetti ergonomici. Qua abbiamo quello del 2 e mezzo, poi c'è il 3, il 3 e mezzo, il 4, 4 e mezzo, 5, 5 e mezzo e 6. Sono veramente molto belli e hanno questa impugnatura molto pratica. Quindi se amiamo questa tipologia di uncinetti e poi come vedete ci sono anche vari numeri, questo set può fare per voi. A parte appunto il fatto che sono all'interno di questa confezione, quindi li possiamo portare anche in viaggio, c'è anche questa forbice veramente molto pratica, quindi c'è anche la forbicina. Quindi è un set veramente molto bello e questi sono tutti i numeri. Vi dico anche la grandezza di questa confezione. Qui abbiamo un 16 centimetri e mezzo per 18 centimetri e mezzo di altezza. Infine ho preso anche questa scatolina che all'interno contiene un totale di 50 tessere per realizzare le granny square. La scatolina si presenta in questo modo e questo è il contenuto. Abbiamo tante schede come vedete che da un lato hanno la lavorazione ad uncinetto e poi nel retro c'è anche lo schema grafico. C'è questa ad esempio molto particolare oppure questa con questo fiore. Questa secondo me questa scatolina è perfetta magari anche se vogliamo fare un regalo. All'interno c'è anche questo piccolo libretto che contiene anche la spiegazione scritta. Siamo giunti alla fine di questo video. Vi ricordo che giù in descrizione vi lascio il codice sconto e vi lascio anche il link diretto per avere un coupon da 100 euro e naturalmente vi lascio anche tutti i link dei prodotti che vi ho mostrato. Noi naturalmente ci vediamo a breve sia per i prossimi video ma anche per i prossimi tutorial. Ciao a tutte!